e mentre voi cari italioti siete presi per le vostre vacanze al mare e poi a settembre siete anche presi per chi dovete votare i nostri carissimi amici colao e cingolani stanno lavorando di nascosto per farvi una bella sorpresina una sorpresina di quelli migliori ragazzi e perciò volete sapere qual è la loro sorpresina scopritelo da soli ragazzi nel frattempo buone vacanze e soprattutto votate cingolani e colao vota antonio no anzi vota cingolani vota colao vota colao vota cingolani ciao